Siamo giunti al Fiorello Lucchiello di una delle fiere organizzate direttamente da Piacenza Expo che è il mercato dei vini dei Vignaioli Indipendenti. Quest'anno abbiamo in fiera 600 cantine provenienti da tutta Italia legate da un fil rouge che è l'appartenenza alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, la FIVI quindi una rappresentazione di cantine che seguono tutto il processo per arrivare a ottenere i loro vini dalle loro uve. Abbiamo per il primo anno tutto il padiglione 1 interamente occupato, sono 10.000 metri quadrati e sempre come novità di quest'anno un padiglione 2 dedicato a una gross'area relax con 20 artigiani del cibo provenienti da tutta Italia.